Anticipo qui al centrale di Wimbledon a Roland Garros, siamo qui con Pierluigi Pardo, Pierpardo, sono qui alla Sampdoria, Claudio Ranieri con i miei boys. Allora è divertente, buonanotte a tutti, è divertente, adesso domani non so a che ora mi attivo, ci sono due finestre per l'intervista a Mister Alvini, le finestre non le vedo più, 10 e 30 ma non vedo più la finestra, comunque non importa. 10 e 30, 12 e 30, 14 e 30, 16 e 30. Dicevo, ma chissà come faranno tutti gli uomini e le donne della notte, ma soprattutto il potere, no? Maurizio Mosca sì che era forte, Maurizio Mosca, moschito, moschito. Allora Maurizio sì che era forte, era un fenomeno, Maurizio etto Mosca, amico di Francesco Ordine, ad esempio. Allora, ma come fanno, ma come fanno i marinai? Ma come fanno le bellissime? Ma come fanno le donne che giorno e notte vivono della bellezza, dell'immagine, della corporeità, della fisicità? chiaro che c'è un po' di differenza fra una moineggiante al centralino e una moineggiante nel lab dance, ma è sempre moineggiare, è quelle che vivono dei sorrisi, delle false illusioni. dai, beviamo qualcosa insieme e ti va. Devo fare un bel pezzo su una... E le dirò la privacy! le lab dance, le lab dance, le lab dance e le prostitute, le lab dance. Poi ci sono i pornostar che quelli appaiono. Beh, è fantastico, fantastico. Ma come fanno? Beh, secondo me si prostituiscono in un appartamento. Non tutte, alcune. Quelle che hanno più bisogno di soldi, le più spregiudicate. Indispregio! Spregio! Lo, 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 Bernardo! Ma come fanno i marinai? Ma come fanno quelle che... Quelle bariste, quelle bellissime! Le bariste, le recepcioniste! Quelle che... Uh, uh, certo! Le bariste, certo! Un caffettino! Eh! Eh! Dai, beviamo qualcosa insieme e ti va? 15 euro per il locale e due alla ragazza. Dai, facciamo il privé? Dai, perché no? Sei tirchio? Come mai sei tirchio? Ma sei tirchio? Ah, tu sei tirchio! Ce l'hai la macchina grande? Vuol dire che te ce l'hai i soldi! E mi offro i 20 euro! E le bariste? E le sexy bariste? Come fa là? La brasiliana come si chiama? La... Eh, non mi ricordo più. Quella là verso Modena.